Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Questa è la mappa relativa alla mattina di domani dove vediamo appunto questa ondata di gelo che sfonderà la nostra penisola italiana. Vediamo anche con termiche tra la meno 4 e la meno 8 sull'Italia che porterebbe temperature minime domattina tra meno 2 e meno 4 in Piatura Padana. Temperature fino a 6-7 gradi sotto zero in città come Belluno e Bolzano. E comunque non mancheranno pure le gelate al centro sul d'Italia. Si andrà sui meno 2 anche a Firenze, tra i 0 e i meno 1 anche a Roma e brinate anche a Napoli e nelle città circostanti. Quindi si assisterà a brinate anche in parecchi punti del sud Italia. Poi ecco vediamo la giornata del 25 dove il gelo si intensifierà al sud Italia. Vediamo una termica di meno 8, un'isoterma di meno 8 che porterebbe le temperature soprattutto alle massime ad abbassarsi anche di 5, 6, 7 gradi rispetto alle attuali. Infatti si assisterà a giornate al di sotto dei 10 gradi in quasi tutto il sud Italia. Per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento meteo. Alla prossima! Alla prossima!